Buona domenica, buona quarta domenica di Avvento. E vorrei leggere il Vangelo di questa domenica, o meglio presentarvelo, secondo una logica sacramentale. Il Vangelo oggi ci racconta la visita di Maria a sua cugina Elisabetta. Partiamo da quella che è la logica sacramentale. Ogni sacramento è tale perché è costituito da una realtà visibile, concreta, materiale, potremmo dire, e dalla presenza del mistero, la realtà invisibile, non raggiungibile, diremmo oggi a occhio nudo, la quale dà forma e significato alla stessa realtà visibile. Appare in evidenza nella pagina sacra che leggeremo in questa quarta domenica di Avvento l'incontro di due donne che appartengono a una storia che Dio ha già reso salvifica con il suo intervento, con la sua presenza. La visita di Maria ad Elisabetta potrebbe sembrarci un semplice atto di carità. Ed è sicuramente anche questo. Maria va da Elisabetta perché è informata dall'angelo e ne intuisce le necessità. In realtà l'incontro di queste due donne è una grazia di rivelazione nella quale anche noi possiamo essere coinvolti e resi partecipi proprio per preparare il Natale del Signore. Ciò che è nascosto prende il sopravvento e dà un sapore nuovo di rivelazione all'incontro delle due donne. Il bambino nascosto nel grembo di Elisabetta sussulta. Lo Spirito Santo inonda la vita di questa nonna anziana e insieme madre. Elisabetta canta il mistero di Maria non senza celebrare il Signore del quale è definita madre. Maria è benedetta ed è benedetto il frutto del suo grembo. Essa è la madre del Signore. Ecco, Elisabetta accoglie in modo singolare e superlativo Maria, non in quanto cugina e non perché questa è accorsa in aiuto alla sua anzianità, ma proprio perché è la madre del Signore. È come se Elisabetta riconoscesse attraverso la presenza di Maria il segno reale, il sacramento della presenza di Gesù. Ed è aiutata in questo anche dallo stesso figlio, il precursore del Signore, che è la porta in grembo. Allora Maria è sacramento della presenza di Gesù nella storia ed Elisabetta diviene sacramento dell'esultanza del precursore che porta in grembo, esprimendo quello che lo Spirito le suggerisce. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Il Natale è vicino, già la novena segna il nostro passo deciso ed entusiasta verso il Natale di Gesù. In questo periodo dove abbiamo visto e percepiamo l'insidiosità di quella malattia che ci ha messo per molto tempo alla prova, i vari organi di stampa di informazione ci hanno esortato a salvare il Natale. C'è da chiedersi, bisogna salvare il Natale o bisogna lasciarsi salvare dal Natale? Il Natale è un mistero nascosto da accogliere come dono salvifico oppure è un artificio economico e sociale che serve a coltivare più di una illusione? Naturalmente ingrassando le tasche solo di alcuni. Elisabetta incontra e anticipa insieme al figlio che porta in grembo il Natale del Signore. Ella esulta per il mistero presente e custodito dalla Madre del Signore. Ella riconosce in Maria il sacramento che porta Gesù nel mondo e diviene sacramento dell'esultanza del suo proprio figlio e della potenza dello Spirito Santo. Ecco allora per vivere il Natale e per lasciarci salvare dal Natale. Guardiamo a Maria il sacramento di Gesù e chiediamo l'esultanza di Elisabetta, accompagnati e illuminati da quella che Sant'Ambrogio definisce in un suo inno, nella sua catechesi, la sobria ebrietas, dono dello Spirito Santo. Buon Natale a tutti voi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!